e o no che è il nostro singolo si è il nostro singolo è il singolo quello cantato dovevo fare quello cantato vuoi fare quello che è mai? è fighissimo è la prima canzone stupendo che viene vivo pare che sta avvenendo all'altro mondo la traccia invece di mettere la sopra me la mette sotto no stiamo dentro a posto la fine della parte di stop e ora devo fare la parte di due come così dai non è 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 ma è si mi senti più così fare tipo musica classica però questo è un po' di Abbiamo finito Adesso Adesso dobbiamo fare il premissaggio E poi lo posso ragazzi bravi Facciamo un applauso tutti E fare un applauso al nostro amico Fonio E voglio presentare questa ragazza Perché questa ragazza è molto brava No è brava perché ha fatto Cioè ringraziamo anche lei che ha fatto Grande Le idee, le grandi idee di Mattia E direi anche con il grande contributo del bass Di Daniele Grandi E a Davide Che ha fatto tutto Thank you so much for everything Ci vediamo fra pochi giorni Facciamo il premissaggio e ci rivediamo qua Oh yes Ciao ragazzi Ciao Ciao Bene Ciao